L'attuale governo è in crisi, sentiamo cosa ne pensi i cittadini di Castellabate. La posizione è una situazione abbastanza confusa, abbastanza difficile, dove gli italiani poco stanno capendo di quello che succede oggi in Italia. Lei tornerebbe alle urne subito? Sicuramente sì, bisogna votare, bisogna dare la parola ai cittadini, anche perché visti i risultati, visto quello che succede, e visto la divisione dell'attuale governo è giusto che i cittadini si esprimino. Pensa che il governo abbia ancora lunga vita? Questo non lo so, dipende da tanti fattori, però credo che dureranno ancora per un poco, perché non conviene a nessuno, almeno ai parlamentari che oggi sono lì, molti di quelli non tornerebbero in Parlamento, quindi faranno di tutto per restare lì. Pensi che abbia ancora lunga vita l'attuale governo? No, poca vita, poca vita. Non esiste una maggioranza. Se cambiano la legge elettorale, che fanno un nuovo sistema di voti, allora posso dire, ma se no, se va a votare, nessuno prende una maggioranza, sia di destra che di sinistra. Diciamo che potrebbe andare meglio se facessero lavorare per bene l'attuale governo. Lei pensa che torneremo alle elezioni subito, tra poco tempo? Non credo. Non mi fa parlare, ho piacere. Cosa ne pensa della crisi dell'attuale governo?